Il destino dei tre imputati per la morte di Luana Dorazio, la mamma di 22 anni deceduta lo scorso 3 maggio dopo essere stata inghiottita dall'orditoio al quale stava lavorando in una fabbrica a Montemurlo, si deciderà dopo l'estate. Oggi il giudice delle udienze preliminari del Tribunale di Prato ha rinviato tutto al 22 settembre dopo aver accolto il legittimo impedimento di uno degli avvocati difensori. In aula solo la mamma di Luana Dorazio. Aspetto giustizia come sia dovuta, confido nella magistratura. Assenti gli imputati, coniugi Luana Coppini e Daniele Faggi, titolari dell'orditura Luana, e Mario Cusimano, tecnico manutentore dell'orditoio. Stesse accuse per tutti, omicidio colposo e rimozione delle cautele antinfortunistiche, circostanza quest'ultima ipotizzata fin dal primissimo momento e poi confermata dalla perizia fatta fare dalla procura, convinta di una manomissione consapevole sull'orditoio. Un punto, questo, su cui gli avvocati della difesa sono pronti a dare battaglia con questioni tecniche, oltre che sottolineando che nessuno avrebbe assistito a quell'infortunio. Nonostante quella di oggi sia stata solo un'udienza di passaggio per fissarne un'altra, sono state diverse le richieste di costituzione di parte civile sulle quali il giudice deciderà la prossima udienza, quella della mamma di Luana Dorazio e per conto del figlio della vittima, quelle del padre e del nonno materno nella sua qualità di tutore provvisorio. Solo un'istanza potrà essere accolta e per questo le parti dovranno produrre documenti a sostegno della legittimazione di ciascuno a chiedere di entrare nel procedimento a nome del bambino. Richieste di costituzione di parte civile anche da INAIL, FEMCACISL, Prato e ANMIL. Intanto la compagnia assicurativa Unipol ha disposto il pagamento di un risarcimento di 336.500 euro ciascuno ai genitori dell'operaia, mentre altrettanto sarà depositato in favore del bambino e 100.000 euro in favore del fratello della vittima, un ammontare di oltre 1.100.000 euro che la famiglia ha accettato ma solo come a conto.